Buongiorno a tutti, qui Arduino Schianato da Yardforex.com e come ogni sabato ormai un video operativo e in questo caso invece di parlare di Euro-Dollaro vi parlerò di un'altra coppia che ha al numeratore Euro e in questo caso al denominatore, come potete notare dal mio grafico, Yen. Se siete dei Forex Trader sapete già che Euro-Yen non è un cambio base che è quindi con il dollaro americano ma è un cross, quindi è un incrocio tra due cambi col dollaro americano, in questo caso Euro-Dollaro e dollaro-Yen. Allora, detto questo sappiamo che il Forex è sicuramente uno dei mercati che da un punto di vista correlativo può aiutare molto nell'operatività, vi assicuro che rispetto ad altri mercati, in certi casi poi la correlazione è anche matematica, in altri casi la correlazione è molto stretta, soprattutto in certi momenti e quindi da questo si possono attivare un certo tipo di operatività, diciamo di strategie a supporto di quella che è la classica modalità operativa che uno ha, in questo caso mio la Price Action e quindi può essere utile andare a confrontare appunto gli strumenti e andare magari a trovare dei cambi in croci, cross, che possono essere molto interessanti in alcune fasi del mercato, in alcuni momenti dell'anno per esempio in questo caso e adesso a mio avviso siamo arrivati a un Euro-Yen che per la prossima settimana potrebbe dare delle buone opportunità. Perché dico potrebbe? Perché ovviamente quello che io dirò, adesso vi farò vedere, sarà basato sempre poi su una lettura giorno dopo giorno del grafico e quindi da delle conferme operative, principalmente su un grafico daily, di quelle che saranno appunto le idee che io mi sono fatto su questo mercato e che sono quelle che vi esporrò. Allora, Euro-Yen, vedete il grafico settimanale? Ovviamente in questo caso notiamo, io ho segnato i livelli principali in questo momento di domanda offerta, di supporto tecnico e resistenza tecnica dell'ultimo periodo, quindi non sono andato a prendere appunto dei livelli troppo lontani, ho preso proprio quelli più vicini al prezzo attuale. Come notiamo ovviamente Euro-Yen è in una fase rialzista dovuta a un dollaro-yen che sta crescendo molto e comunque un euro-dollaro che sicuramente non è da meno. Quindi in questo caso specifico, come possiamo vedere, c'è una trend che ormai nel breve dura da qualche settimana, l'ultimo swing, lo possiamo vedere qui, eccolo qua, questo qui è l'ultimo swing low, in realtà il vero swing di mercato per il tipo di movimento massimo-minimo di pullback è questo, perché qui in realtà c'è uno swing tecnico ma non c'è uno swing di prezzo, quindi non c'è un movimento di pullback con lo swing. Però comunque l'ultimo swing parte qui, diciamo che l'ultimo swing con pullback è qui, siamo abbastanza vicini in realtà e qui aveva creato una base, qui aveva fatto questo tipo di situazione, quindi chiusure che io guardo molto e poi questa situazione che ha portato sui prezzi. Quindi è ormai da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 settimane che non dà uno swing sul weekly e in realtà 8, 9, 10, 11 da 11 settimane che non fa uno swing con un pullback. Detto questo, prima cosa, quindi siamo molto lontani dall'ultimo swing. A questo punto, proprio su un livello importante che avevo segnato qui, diciamo l'area 134, 133, 80. Ricordatevi sempre che i numeri tondi nel mercato delle valute sono assolutamente interessanti da seguire, da guardare perché spesso possono accadere, insomma, se queste hanno confluenze con altre situazioni tecniche di supporto e resistenza e soprattutto livelli psicologici comunque, possono portare in effetti a darci delle informazioni operative molto semplici ma molto affidabili. Detto questo, poi sapete, io tendenzialmente, come dico sempre, faccio un trading abbastanza semplice, nel senso che come vi sto spiegando, vedete, guardo la struttura dei prezzi, segno i livelli di supporto e resistenza o domande offerta più importanti e lavoro su quelli in base, ovviamente, a determinate situazioni che si vengono a creare di conferma. Ma di base, se mi chiedeste oggi che tipo di tecnica usi, io vi dico, io lavoro principalmente sui supporti e resistenze macro, non quelli che trovate così, no, su grafici a tre minuti e da lì io lavoro. Questo è il mio fare trading, se vogliamo ridurlo, ridurlo, ridurlo. In questo caso, quindi, siamo arrivati su una resistenza anche a livello di offerta, qui, non così estremo, non così pesante come è successo qui, però, resistenza tecnica che aveva inglobato i prezzi nel 2017, chiaramente, con delle chiusure e, vedete, se vado a fare così, così lo vedete meglio, benissimo, qui c'erano le chiusure precedenti che avevano creato un livello che qui, vedete, avevano fatto questa settimana così, poi, inside, fuori uscita, e siamo arrivati qui, sull'altro livello, e qui si è fermato, ok? Il mercato Forex è molto tecnico e risponde bene a queste situazioni. Benissimo, detto quindi questa cosa sull'euro yen, io questa settimana prossima mi concentrerò anche su questo cross di valuta, perché è sicuramente un qualcosa da seguire per questi motivi, quindi, situazione chiara nell'ottica di vedere da quanto non fa uno swing, seppur c'è un uptrend, io qui andrei a lavorare principalmente short. Quindi abbiamo questa settimana che si è creata questa, questo mini vara rossa, quindi questo mini sell off, chiamiamolo così, questo mini pullback. Ovviamente, in questo caso, prendo un daily, eccoci qua, stiamo, come notate, un daily che ci conferma anche a livello tecnico una linea di trend, quindi un'area dinamica che io non uso moltissimo, ma quando è così chiara, ovviamente, la si può segnare assolutamente, che confluisce proprio con i 132, diciamo, 132, 132,50. Siamo a 133,25, quindi potete ben capire che quello che io adesso vi vado a proporre, o comunque quello che probabilmente andrò a cercare qui, sarà un trade di breve termine nella prossima settimana, all'incirca, tra la prossima settimana e la prossima ancora, poi si parla comunque di trading di breve, di qualche giorno. E cosa vorrei vedere? Intanto vorrei andare short, vorrei andare short con un target della zona verde che vedete qui, questa qui che ho segnato, quindi il target di profitto è qui, non è tanto distante dai prezzi attuali, e vorrei che cosa, a meno che questo euro yen subito, tra lunedì e martedì, quindi settimana prossima, non vada direttamente qui senza darmi nessuna opportunità, può essere che possa succedere una cosa del genere, quindi lui scende direttamente sui livelli, oppure potrebbe anche essere che dopo questo movimento di pullback, 1,2, diciamo, possa creare magari un consolidamento inside per andare poi a vendere, o una qualche price action che mi conferma magari lo short, quindi magari il ritest di zona 133,80, 133,50 e le vendite che arrivano chiare, quindi una chiusura daily che ci conferma la difficoltà dell'euro yen a ritornare al di sopra di certi livelli, a quel punto potrei pensare di shortare l'euro yen, però sempre con obiettivo appunto 132, 132,50, quindi ecco non è un, questo è un modo di far vedere il mercato da qui a qualche settimana, ma da qui per la prossima settimana quello che vorrei vedere, e detto questo vorrei anche mostrarvi i motivi, oltre al fatto che la struttura tecnica, come vi ho spiegato, di euro yen è una struttura assolutamente che può chiamare a un bel movimento qui, e se io riesco a vendere l'euro yen in area 133,40 per esempio, come area, e riesco a richiudermi a 132,50, 132, comunque è un trade dove si porta a casa magari dai 140 agli 80 ai 140 pips in una posizione, in un trade che può essere in realtà molto interessante e direi anche rapido perché sappiamo, se non lo sapete ve lo dico io, euro yen come vi dicevo avendo una correlazione matematica è un moltiplicatore di quella che è la volatilità del dollaro yen e dell'euro dollaro, quindi se voi moltiplicate il prezzo di euro dollaro e il prezzo di dollaro yen vi uscirà il prezzo di euro yen, quindi è proprio matematica. Allora in questo caso rapidamente andiamo a vedere un attimo l'euro dollaro che questa settimana è sceso ed è andato a sbattere sull'area 1,21, area tonda, ecco qua non perfettamente ma quasi, qui ha recuperato però vedete che la situazione non è ancora così forte, quindi potrebbe esserci comunque non per forza un movimento long enorme sull'euro dollaro, questo quindi porterebbe a un euro dollaro magari anche solo in lateralità o anche leggermente ribassista, quindi un negativo consolidamento e un dollaro yen che appunto forma la coppia euro yen che come potete notare magari potrebbe dare un altro movimento short, magari ritornando su questi livelli, questo ormai è diventato un range, se voi notate sporco ma è diventato un range che prende appunto zona 110 e zona 108,60 e quindi magari anche in ritorno verso questa zona cosa avremmo? Avremmo un euro yen che quindi formato da, lo vado a riprendere, formato da un euro dollaro, un euro yen che magari non godono per forza questa settimana di dei rialzi così incredibili, potrebbe essere ma andremo a vederli, anche perché potrebbe comunque essere che magari l'euro dollaro sale e il dollaro yen però scende molto per cui comunque è molto facile che l'euro yen per questo, lo yen diventi più forte dell'euro e quindi abbassi il suo valore ovviamente e quindi questa cosa poi il cambio di valuta euro yen porterà appunto magari verso la zona 100 pips più bassa di livelli attuali che io mi aspetto nelle prossime giornate. Quindi ecco questa era la valutazione che volevo farvi vedere oggi, una valutazione anche che è stata didattica da un punto di vista proprio di quello che è il forex, quindi di quello che sono le correlazioni tra due cambi col dollaro americano e che formano il cross e che in ottica diciamo di fare trading è veramente molto molto interessante. Le correlazioni, quindi l'apportare uno studio correlativo a quelle che sono le operatività vi assicuro che può portare degli ottimi risultati anche nel momento in cui magari si possono affrontare delle perdite se si riesce a gestire la cosa magari si riesce a ridurre magari in maniera molto chiara la perdita e quindi a gestire meglio poi quindi il rapporto tra costi e ricavi, tra profitti e perdite. Va bene, detto questo quindi ho detto tutto, spero che il video ovviamente vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina perché così vi arriveranno tutte le notifiche dei video che facciamo. Io vi saluto, vi auguro sicuramente un buon weekend e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao a tutti!